Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi ritorniamo a parlare del Parma, dobbiamo voltare pagina dopo la cocente eliminazione in semifinale pre-off ai danni delle Cagliari che poi è riuscito a salire in Serie A, è tempo appunto di, ormai è tempo di mercato e io voglio fare un mio personale bilancio, diciamo così, della rosa e vedere chi, valutare chi tenere e chi no. Ovviamente sono della rosa del Parma, ovviamente sono le mie valute personali anche se secondo me qualcosa di oggettivo c'è e non si dovrebbe andare contro, comunque per nettele come mie valutazioni personali possono essere condivisibili. Partirò dai portieri e dai difensori, poi ci sarà una seconda parte nei prossimi giorni, poi i centrocampisti e gli attaccanti. Buffon lotterò per ultimo perché è un argomento un po' delicato da trattare. Cominciamo. Allora, i portieri, Francesco Borriello è dell'Under 18-17, adesso non lo ricordo, è messo nella grafica per far numero. Corvi, terzo portiere perfetto e anche di Parma, quando ha giocato ha fatto delle ottime parate, delle ottime partite. Sono contento che abbia rinnovato e quindi lo confermerei e spero che rimanga anche perché sai che qualche volta il rinnovo dei contratti non significa che uno rimane, ma comunque lui come terzo portiere è perfetto. Santuro l'abbiamo preso perché Buffon e Cicizzola si erano fatti male nello stesso momento, giocava appunto Corvi che era il terzo portiere, l'abbiamo preso lui come tappabuchi, rimane o non rimane, non cambia le sorti della squadra. Non lo so, a meno che non vogliono appunto promuovere Corvi come secondo, lui come terzo ci starebbe perfetto. Cicizzola no, io non affiderei la titolarità della porta a Cicizzola, sembrava un portiere buono nelle prime partite, poi per me proprio cosa non deve essere un portiere. Non mi piace come portiere nel senso che, sì, tra i pali è reattivo, fa delle belle parate, anche super parate l'ha fatto alcune volte, però le uscite le fa male, ogni tanto tenta l'uscita, poi rimane sulla linea. Uscite pazze, fuori dall'area, quando magari non ce n'è bisogno, rinvii così sempre sbagliati, certe volte provo il rinvio, sai quelli che ti ha la palla in mano, il rinvio al volo, per fare la tirazione velocemente, e puntualmente regala la palla all'avversario. Anche, noto che ogni tanto anche le palle semplici le blocca sempre in due tempi. Un portiere così, sinceramente, mi spaventa, non mi sembra che mi dia molta sicurezza alla difesa. No, non lo terrei. Per Buffon il discorso è più ampio, perché per Buffon in sé io lo terrei al 100%. Quando ho giocato ho dimostrato di dare appunto esperienza, sicurezza alla difesa, ottimi interventi, qualche errore ci sta, ma ha 45 anni di giocare così, comunque è qualcosa di pazzesco. Qual è il problema? Appunto l'integrità fisica. Avere un portiere che è affidabilissimo quando gioca, quando gioca, perché poi si infortunia, fa tipo decine di partite ravvicinate, e poi si infortunia, poi gioca al secondo, fa qualche partita, ritorna Buffon, il mio telefono beccato. Poi si rifa male, gioca a Ciccizzola. Poi dopo capite che già la difesa è limitata, è scarsa, quello che è, cambio di portiere all'improvviso, quando meno te lo aspetti, non è il massimo. Avere sempre il pensiero che prima o poi Buffon si fa male, non è il massimo. Forse per lui gli rinnoverei pure il contratto, per l'integrità fisica, due pensierini ce lo farei. Ma solo per quello, assolutamente. Il valore del portiere non si discute, preferirei Buffon senza braccia e Ciccizzola, per far capire. Passiamo ai difensori. Allora, argomento difensori. Partiamo da Ansalli. Stesso discorso di Buffon. Quando gioca, si vede che è una spanna sopra gli altri, esperienza qualità, cross, che pochi di questi fan riescono a fare, anche quelli che giocano bene. però gioca o non gioca. Fa tre partite e poi si fa male. Ne salta a tre, recupera, tre partite e si fa male. Ne salta a tre, recupera. Capite che a noi servono a giocatori di esperienza come lui, ma se appunto, già hai il pensiero di Buffon che si può far male da un momento all'altro, cioè pure lui, capisci che ne è proprio appunto una cosa meravigliosa. Poi, in semifinale playoff, lui non c'era. Buffon si è fatto male durante il primo tempo. Una squadra giovane come la nostra, che non ha mentalità, che si dimoralizza subito e cade nel panico subito, capite che non avere questi due in campo la squadra ne risente. Perché nessuno dà carisma come loro due. Buffon soprattutto, ma anche lui comunque la dà nello spagliatoio sicuramente. se si, paradossalmente, cioè, che farà l'assurdo, si rinuisse lo stipendio e non fondiamo la squadra su di lui, ma comunque rimane un'alternativa su cui puoi contare, lo otterrei a mani basse. Balogo, no. Guardatevi la sintesi di Bari-Parma 4-0 e a Parma-Ascoli 0-1 e vedete con i vostri occhi perché non deve rimanere. Un'errore a partita, un gol a partita regalato. Mi dispiace perché lo reputavo un buon prospetto. Cercati, vi dico solo questo, lui e altri 10. Cercati, sono contentissimo che abbia rinnovato e anche di Parma, giovanissimo. Del settore giovanile. Mi dispiace solo che abbia scelto l'Australia e non l'Italia come nazionale, ma se lui si sente quello, nessuno può dirgli nulla. Bari-Pecchia per favore, un appello, lui deve essere il titolare. Parma, società, deve essere lui il titolare. Basta far giocare Kobo, basta far giocare Balgo, il posto suo, basta far giocare Osorio. Lui deve essere il perno affiancato da un difensore esperto che lo può far crescere ancora di più. Lui secondo me ha proprio le qualità per giocare in Serie A anche ad altissimi livelli. Kobo io non lo posso vedere. Ho detto proprio sinceramente, l'anno scorso quando lo vedevo giocare, la scorsa stagione mi veniva l'Orticaria. Ho pagato 3-4 milioni di riscatto in estate. Guardate, diciamo che tra lui e Osorio terrei lui, e questo vi fa capire molto, ma veramente se voi lo guardaste sempre giocare, si ti fa dei buoni interventi, ma poi fa degli errori allucinanti. Guardatevi sempre alla semifinale di andata sul 2-0 per noi, chi ha regalato il gol del 1-0? Lui. Pardon, il gol è del 2-1, non del 1-0. Passiamo a Coulibaly. Fino ad aprile era un oggetto misterioso, dopo aprile lo vorrei in campo sempre. È migliorato un sacco, così ti botto, sembra. In fase difensive è migliorato tantissimo, spinge anche molto. Se migliora appunto in fase offensiva, con qualche cross migliore, diventa più determinante appunto nella spinta offensiva, può diventare veramente, veramente un gran terzino. Del Prato faccio come Cercati, lui, Cercati e altri 10. È uno dei pochi che ha dato l'anima in campo sempre, può giocare terzino, ha giocato l'anno scorso nella difesa 3 in maniera straordinaria. Anzi, forse secondo me è più la difesa 3 che la terzino, ma comunque può fare entrambi benissimo. Anche lui forse qualche cross in più può farlo un pochino meglio, però veramente lui deve ripartire da lui in difesa, perché veramente in due anni dove il Parma ha fatto, infine, male, anche quest'anno per la fine non si può dire che è una stagione positiva, lui c'è sempre stato, lui è stato uno dei pochi a salvarsi sempre. Osorio no. Osorio direi anche Basta, 3 anni che a Parma, da quando sono i processi, quindi capite un po' il livello. Quest'anno sì, ha giocato un pochino con più continuità, ha giocato un pochino meglio rispetto agli altri anni, però ti fa sempre spaventare, almeno una volta ogni tanto, almeno una volta, un paio di volte a partita, ti fa sempre venire il cuore in gola per il suo intervento un po' confusionario, ecco, a me i difensori così mi spaventano, e quindi dopo tre anni direi che si può anche fare a meno. Valenti è un discorso simile, nel senso che nei primi due anni era veramente un oggetto misterioso, il primo anno di Serie A ha giocato pochissimo, il secondo non ha mai giocato per infortunio, finalmente quest'anno stava dimostrando qualcosa, si è rotto il crociato. Secondo me lui è il classico difensore che se gioca con uno sicuro e forte può rendere, giocando con difensori confusionari pari del suo livello, fa male. E lui è uno dei pochi che terrai anche perché l'abbiamo strapagato, quindi è difficile da venderlo, ma comunque su di lui potrei anche farci un pensierino di tenerlo, tra appunto i magnifici tre, Osorio e Valenti con Bo. Zagharitis che dire? Zagharitis lo definisco un po' la mascotte del Parma, perché in tre anni, da quando è qua, ha giocato veramente poco. Se i liberani da verso non lo fanno giocare, Maresca e Iachini non lo fanno giocare, perché ha avuto un periodo in cui lo usava spesso e poi non ha fatto più giocare, usava spesso ovviamente sempre da riserva, capisci che due indizi fanno una prova. Mi dispiace perché in Serie A, con quelle poche volte che ho giocato, non mi era dispiaciuto, anche la gara di addio alla Serie A, con la Sampa persa 3-0, era entrato all'intervallo e nel secondo tempo era l'unico che spingeva, quindi qualcosa ha fatto vedere, cioè non era buttare secondo me, parlare in prestito probabilmente, era far giocare finalmente con continuità e non sprecato in panchina al Parma. Ecco, lui è un giocatore da prestito. Questo è il mio parere appunto sui portieri difensori, ditemi se siete d'accordo o meno, poi nel prossimo giorno arriverà anche la parte forse più succosa, che sono i centrocampisti e gli attaccanti, ci sarà molto molto da dire. Un saluto, al prossimo video, ciao!